Premo in diretta, livello numero 8 di giornata dei 13 previsti, 250-500, anti-50, diamo una mano al tavolo numero 19, posto libero, 250-500, anti-50, primo giocatore a parlare, sta pensando, fold, 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 1250, fold, facciamo il race, conta le fish e vediamo di quanto sarà il race, ed eccolo, 3875, e c'è nuovamente il race, 10.000, con due fish gialle, come vedete, 5.000 fish, 10.000, e c'è il call, vedremo questo flop, insieme, call e flop, 10k donna, immediato all-in, e c'è il call, quindi vediamo showdown, k asso, asso k, asso k entrambe, l'appro stronzo, a cuffone, a cassaro, a tutti sabbi a me, cioè che ne colore, voglio fa colore con 5-12 carte, vari da k k, quindi servito il piatto, e tutti felici, in soma! Sembrava davvero.